ariete è a voi che qualcuno si affiderà per capirne di più su una certa materia siete particolarmente chiari e semplici nell'esprimervi e gli permettete così di entrare nell'argomento senza troppe difficoltà saprà ricambiarvi al momento opportuno per questo vi farà sentire importanti toro potrebbero verificarsi dei piccoli contrasti nella sfera delle vostre amicizie evitate di farvi saltare i nervi non risolvereste nulla ma vi creereste qualche problema in più di quelli che già ritenete di avere cercate di ritrovare la calma scaricatevi facendo un po di moto gemelli un po di tensione oggi non mancherà quella certa interrogazione o quel certo colloquio lo avete atteso a lungo ora che è arrivato il momento vi potranno forse mancare un po le energie siate meno preoccupati perché comunque andrà tutto benissimo e vi stupirete di quanto fossero infondate le vostre ansie cancro vi sveglierete bene questa mattina con un'aria finalmente un po più pimpante meno male è ora che vi tiriate un po fuori dal vostro letargo dorato gli incontri che farete saranno molto simpatici e positivi e vivrete in un clima di serena apertura dolcezze e vitalità leone scegliete di non scegliere questo è quanto vi raccomandano gli astri per non cercare di mantenere due posizioni contemporaneamente ma per valutare ancora un po se e quanto vi è stato detto è vero oppure quanto si nasconde di aspetto negativo che non riuscite a scorgere tanto nessuno vi metterà troppa fretta un vergine tutto ciò che riguarda il vostro prossimo futuro oggi per voi assumerà un'importanza enorme forse esagerata perché risolvere in una volta sola tante situazioni è praticamente impossibile lo volete fare perché non vi piace il vostro presente ma dovrete procedere per gradi bilancia se continuerete a lamentarvi di come tutto non gira come voi vorreste riuscirete solamente a stancare chi vi sta intorno evitate di fare la solita vostra parte da insoddisfatti cercate di vedere gli aspetti positivi che ci sono nelle vostre giornate meno esigenze e una maggiore tolleranza sono il consiglio degli astri scorpione cercate di lasciare da parte ogni problema e di fare le cose più elementari avete necessità di lasciare la mente libera da ogni preoccupazione e di continuare il solito tran tran se ci riuscirete troverete qualche ora per abbandonarvi al riposo oppure per fare una passeggiata liberandovi dalle ansie sagittario oggi vi sentirete scatenati e farete serpeggiare allegria in tutto il vostro ambiente saprete essere contagiosi e riuscirete a fare dimenticare i problemi a chi vi è vicino sembra che tutto sia facile e riuscirete a fare apparire semplice ogni cosa anche agli altri capricorno se vi sembra più corretto e soprattutto più sicuro continuate a temporeggiare non c'è alcuna fretta di dover riassumere quell'importante incarico e se per ora desiderate fermarvi a riflettere fatelo tranquillamente nessuno potrà avere da ridire sul vostro comportamento stasera la dolcezza della persona che amate vi conquisterà sotto ogni profilo acquario vi sentite ancora più preoccupati per una questione economica che non vi fa stare tranquilli provate a parlarne e vedrete che questo assillo potrà essere presto ridimensionato una possibile emicrania potrebbe non darvi tregua i pesci vi sentite sostenuti da una carica di ottimismo di fiducia di energia fisica veramente notevole non sciupate le vostre giornate in cose di poco conto programmate situazioni che rivestano per voi una certa importanza ce la farete in ogni caso tranquillizzatevi e qualcuno vi darà anche una mano